Torna il lavoratore ideale. Dopo un anno di stop causa pandemia, la manifestazione del primo maggio, in cui i sindacati premiano chi si è maggiormente distinto nel mondo del lavoro, si è nuovamente svolta presso la provincia di Pescara. Questa è la ventesima edizione. Quest'anno, insieme a Paolo Minucci e all'Associazione, abbiamo voluto che si riniziasse per dare proprio quel segno di continuità e di ripresa, soprattutto in questo momento così difficile. Poi un premio importantissimo. Nell'iniziativa curata dalla redazione di Cronache Abruzzesi sono stati premiati 27 lavoratori. Molti tra loro hanno contribuito e continuano a contribuire alla lotta contro il Covid. Dei lavoratori presso gli ospedali, gli operatori sanitari in genere, i trasportatori, i lavoratori del 118, chi guida l'ambulanza, comunque sono quelle persone che anche da parte mia vanno ringraziate, non solo quelle che sono state premiate, ma tutto il mondo ASL, tutto il mondo ospedaliero, perché hanno subito e hanno ancora una pressione non da poco, non dimentichiamo che da quasi 14 mesi, che sono sotto pressione, senza un attimo di respiro, in prima linea e soprattutto nei primi momenti che non si conosceva questa pandemia, come affrontare e come comportarsi. Oggi, sai, quando il nemico un po' comincia a conoscerlo è diverso, ma ricordo l'anno scorso in questo periodo la situazione era drammatica, marzo e aprile è stata pesante, quindi anche io mi unisco a loro e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo.